ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di jersey history oggi parliamo di un'altra maglietta home parliamo della maglietta appunto home 97 98 eccola qua questa è la maglietta home 97 98 io ancora ho lo scudetto da appiccicarci come potete vedere questa è ufficiale questo è ufficiale 100 per cento ed è di pippo inzaghi ed è anche autografata da pippo inzaghi maglia a mio avviso una delle più belle di quegli anni di sempre bianco nera ma con un richiamo più verso il nero mentre le altre anni era più verso il bianco e particolare la retina qua che faceva respirare in teoria il giocatore e sponsor sony minidisc quindi passare siamo passati dalla sony alla sony minidisc sponsor tecnico ovviamente k cioè rimaniamo fino agli anni 2000 con la k forse l'ultimo anno se non ricordo male appunto della della roba di k poi per passare all'otto se non è l'ultimo è il penultimo comunque è una maglia che mi ricorda molte mi ricorda tanti bei ricordi è vero è anche la maglia con quale perdiamo la coppa campioni con la real madrid però io me la ricordo per alcune partite meravigliose che la juve fece quell'anno lì tipo faccio un esempio un esempio su tutti juve inter con gol di del piero juve minan 4 a 2 4 a 1 dove con del piero inzaghi gli schiantammo mi ricordo una juventus sandoria e quella sandoria era veramente forte vincendo 1 a 0 con del piero insomma ho dei miei ricordi anche perché andai tanto allo stadio per l'anno lì quindi andai anche in juventus bologna tra due che ci consegnò matematicamente lo scudetto e quindi niente ragazzi questa è una maglietta ve la volevo mostrare tipo inzaghi e dovessi scegliere un gol per questa annata ovviamente il gol di del piero con l'inter perché alla fine è stata una partita fondamentale per vincere il campionato già ragazzi e mi raccomando appuntamento al prossimo video